Musica Sono Simone Pappalardo, sto lavorando con la classe seconda C del Tullio Levici Vita, una scuola di cento celle, stiamo ragionando su come far suonare gli scarti della scuola. E quindi creare una sorta di ecosistema, di sistema in feedback, dove i testi siano le scritte prese nella scuola, i materiali risonanti siano i materiali presi a scuola e le partiture siano elaborazioni grafiche di cose prese a scuola, quindi qualcosa che è estremamente collegato alla scuola. Un tubo di un cavo elettrico che attraverso un guanto di lattice riproduce un suono con un fiato. È un progetto ambizioso la stima, andiamo avanti e vediamo cosa succederà. Grazie a tutti.